e buongiorno ragazzi siamo qui con un nuovo video e siamo in compagnia di samuele il nostro nuovo membro un po stagionato e siamo nella camera da letto di mattia dopo che ci ha scopato non uno non due ma quattro volte io non posso farvi vedere allora vi portiamo una profile un po di tempo del nazio perché il nostro buon samu ha fatto una serie di due local 4040 undefeated e quindi vogliamo portare il suo mazzo che è e adesso ve la facciamo vedere tutta sta profile la lista è abbastanza standard nel senso che più o meno tutte le stagioni la stessa momentà di mostro io ho cambiato un paio di cose per avere giusto più energie va bene partiamo da tre ziami perché sono i giochi non stai giocando il mazzo poi mono shark mono wagon mono madame spider e mono dianot sono i quattro gatti stanno per fare la combo base lui fondo li porta a terreno le porta trappola lei è un 5 fa cagare però puttana quando la cali e ti aiuta a fare le covery le borno 1 quando va al cimitero mia madre in realtà ma sì tanto per avere più engine gioco anche mono di lei scarti al di uno di loro il livello di tre e perché è una partenza fortissima gioco tre poxy non ti pesano tre ogni tanto sì infatti prima ne giocavo due però per avere più partenze possibile dato che adesso togliati cross out gioco tre perché se una la usi per per specialare il massimo l'altra può entrare tributando panni tributo un pan che entra 3 più 8 fa 11 giocare questa basta per la parte mostri dei parte punk va bene così parte gol pride standard tre leon ok loro entrano speciali e riportano almeno life lui speciale a uno quando entra al cimitero traghettando lei idem a lui si speciala solo life e quando entra da trappola d'archetipo forte è un 3 importante poi uno della palla e uno di nitrotesto che forti uno della palla perché una fusione la fusione non traghetta in cura mostra dell'avversario in una maniera non convenzionale perché se rimette sotto si d'equipa e doggia un botto di roba fa da rem esatto lui perché contro gas tirato win e se vai contro tipo la 20 vai primo per la tua solita combo per rimbalzare i 5 gli metti il token perché lui in stand by se ha il meno per questo avversario gli metti il token sul terreno doggi i livelli e ci fai panisher con questo è un 8 ragazzi 3 più 8 che forti è lui stai quasi tutto il tempo e questo basta per la parte gol poi al volo il resto che siamo a tre minuti l'entrap tre asci vabbè sono fortissime due ogre perché ci stanno ci stanno tre nibiru per prendere un po di sorpresa al meta mi piace nibiru tu cosa ne pensi e basta per i mostri spell monoterreno parte dal combo pesca due porta uno fai della continua ma ogni tanto sono un palo le puoi giocare due no sono fortissime sono rotta ci stanno si sono rotta prendi live point tu vieni tutti possono entrare e poi tre teleport perché la conami si è buongiorno salute la conami si è dimenticata di aver riprintato questa carta ed è ancora tre non è once porta no è forte è forte l'unico problema è che è a rara me la fai a sega te la faccio io te la faccio io te la faccio monocolled perché doggi le e a drollo questo mazzo fa male puttana per le trappole la permanence searchabile fa la permanence per ogni life anche se non controlli punk fa comunque una permanence fortissima due start your engine perché spacchi una party uno io ne giocherei una tu non giochi lassi e due impermanenze perché perché solo due perché la terza c'è la bosa bosa se ascolti questo e vedi questo video non siamo incazzati con te portaci per favore alle imperma che servono a summa e quindi non possiamo giocare allo yugio due vanno bene e tre sono un palo per l'extra lui fa la combo con i punk è forte lui lo porti di rollerball ci ho vinto contro il capitano con questa carta io lui cattabilissimo potete decidere di non farlo ci sono altre cose pensavo che mano non fosse più forte è un mazzo di merda mio padre sceso in terra spacca forte a sorpresa la tipo contro d'espia devono farsi delle cose strane per doggiare su negate sia la tipella sia lui sia l'exis 3 dei gol preso un'acqua allora sembra allora senso padre la combo se vai primo contro la venta hai vinto si sta rimbalzi 5 vado in battle 10.000 di che parliamo con questo lei è forte perché questi sono terra ci potrebbero andare ferrier o cose strane mascherina e lui per avere interruzioni più minuto nel loppo lei due perché una se la usi per fare zeus poi non ritorna in and mi puoi rifarla poi a dartela continua lei è una custom card chiede due mostri di livello 12 sì però lo fai sopra di lei perché è bella comunque lei è forte cosa fa ad una spell e poi fa foolish indio cane e per finire il grosso negate ci sta allora la sai me la fai in 10 secondi netti droga spaccardetta ci sta il controllo ti fanno male mi piace combo rotti ti fanno strano perché non ci sono bella ma non l'ho mai citata contro il controllo contro il combo forte in trano perché a due sky mi fa paura sì i controlli fanno ancora più paura va bene ci sta livelli l'ho citata mi è piaciuta allora ragazzi direi che dalla camera dei sogni e dell'amore di tia qua è tutto io appunto ringrazio samuele per averci fatto vedere la sua profile di gold pride se volete fixargli la lista non sarà contento ma potete comunque scrivere nei commenti e lui sarà felicissimo di non rispondere tutti i vossi sulle spalle esatto e io direi che vado a salutare samu e tia il buon bianco e anche l'uretra di marco e vi saluto anche dal sottoscritto ciao amici ciao